Lunedì si torna a scuola, scade domani l'ordinanza di Francesca Valente e degli altri sindaci siciliani. Malgrado i numeri alti del contagio, grazie all'alto numero di vaccinati, Sciacca non ha i parametri delle zone arancioni. La Sicilia intanto rimane in zona gialla, ma ci sono ben 149 comuni arancioni, tra questi c'è anche Licata, curva del contagio che nell'agrigentino continua ad aumentare e preoccupa il dato dei deceduti, in 4 giorni ce ne sono stati ben 8. Rimane all'ospedale, non sarà trasferito al lab della Perriera il punto di somministrazione dei vaccini ai bimbi, lo ha detto durante la registrazione di Vespera il pediatra Vincenzo Montalbano, ospite insieme a Evana Di Mino e Nenè Mangiacavallo. Non ci sono più tamponi nel distretto di Bivona, il sindaco di Alessandria della Rocca Giovanna Bubello chiede aiuto all'aspediegrigento, popolazione ad alto tasso di disoccupazione, non può spendere soldi tra farmacie o laboratori. 54 anni fa il devastante sisma del Belice, Montevago riaperta al culto la vecchia chiesa madre, clamorosa protesta del sindaco di Santa Margherita sulla mancata ricostruzione, in un videomessaggio Valenti appare travestito da un fantasma. Un'azienda di sciacca, la Tech Lab Italia SRL, che opera nel settore delle tecnologie internet, ha completato un investimento che le permette di raggiungere una copertura capillare della fibra ottica in tutta Italia e adesso avrà bisogno di selezionare collaboratori. Ben ritrovati a RMK Notizie, si torna a scuola lunedì prossimo a Sciacca. Scade domani l'ordinanza del sindaco Francesca Valenti, la stessa adottata da tanti altri sindaci siciliani, babbocciata dal TAR nei comuni di Agrigente e Palermo. Solo nei comuni zona arancione i comuni possono, ma d'accordo con l'ASP, sospendere la didattica in presenza. Sciacca, nonostante l'elevato numero di soggetti contagiati, non ha i parametri da zona arancione. Ce ne parla Maria Genuardi. Lunedì prossimo riaprono le scuola Sciacca, si torna in classe, la didattica in presenza con le nuove regole della quarantena che fondamentalmente scatta nel caso di un solo positivo per la scuola dell'infanzia, con due positivi per la primaria e con tre contagiati per la media e le superiori. Scade domani l'ordinanza firmata dal sindaco di Sciacca Francesca Valenti e da diversi altri sindaci dell'isola, contrariamente alle disposizioni arrivate dal governo regionale che prevedevano la riapertura delle scuole già da giovedì 13 gennaio. Ordinanze che a Palermo e Agrigento sono state bocciate dal TAR che ha disposto il ritorno in classe già da stamattina. Nel frattempo però Agrigento è passata in zona arancione e il sindaco Micicè ha firmato una nuova ordinanza di sospensione dell'attività didattica in presenza fino al 24 gennaio. Analogo provvedimento è stato adottato questa mattina dal sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore. Facoltà, quella di far ricorso alla DAD, prevista solo per i comuni interessati alle restrizioni. Sono 13 in provincia di Agrigento, ma non è il caso di Sciacca. La nostra città, nonostante l'elevato numero di contagi, non ha parametri da zona arancione, ha rimarcato il sindaco Francesca Valenti. Determinante nel nostro caso è l'alta percentuale di vaccinati, siamo al 95%. Non si tiene conto infatti solo dei contagio o dell'incremento della curva. In ogni caso è il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP in base alla valutazione dei dati a trasmettere la richiesta alla regione a prescindere dall'eventuale sollecitazione del sindaco. A Sciacca dunque si torna in classe lunedì 17 gennaio dopo le lunghe vacanze natalizie. Il fatto che la Sicilia sia rimasta in zona gialla, peraltro, rafforza il pronunciamento del TAR rispetto alle ordinanze dei sindaci, ma anche le decisioni adottate dal governo regionale. L'assessore all'istruzione Roberto Lagalla ieri pomeriggio ha peraltro diffuso l'esito del monitoraggio effettuato dal 13 gennaio nelle scuole che erano state riaperte ed è emerso che gli alunni assenti per positività al Covid non hanno superato il 5%. Un sondaggio effettuato dall'ufficio scolastico regionale su 706 scuole. Su 391 comuni della Sicilia sono 161 quelli in cui i sindaci hanno emanato ordinanze di sospensione dell'attività didattica in presenza, mentre i restanti hanno regolarmente avviato l'attività scolastica. È emerso inoltre che tra le 548 scuole ricadenti nei comuni in cui sono stati adottati i provvedimenti di chiusura. 513 hanno attivato la DAD, mentre 35 non hanno svolto lezioni e si tratta di 28.912 alunni. Anche alla luce di questi dati l'assessore Lagalla, pur dichiarando di comprendere le preoccupazioni dei sindaci, ha ribadito che occorre attenersi alle disposizioni nazionali e alla stessa ordinanza regionale che prevede l'attività didattica in presenza. La Sicilia rimane in zona gialla ma con 149 comuni in arancione. Il Presidente della Regione ha firmato ieri sera le nuove ordinanze restrittive. In provincia di Agrigento anche Licata passa in zona arancione. Il punto nel servizio. La Sicilia rimane in zona gialla per pochi posti letto ancora non occupati nelle terapie intensive. Ha evitato almeno per un'altra settimana il cambio di colore ma sempre più comuni si tingono di arancione. Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato ieri sera l'ordinanza che dispone misure restrittive anti-covid in altre 14 città siciliane. In provincia di Agrigento all'elenco dei 12 comuni già in zona arancione si aggiunge ora anche Licata. Cambiano le date. Per Licata il provvedimento entrerà in vigore domani, 16 gennaio. Sono in zona arancione da oggi i comuni di Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Agrigento, Raffadali, Favara, Grotte, Alessandria della Rocca e Portempedocle. A questo elenco sono da aggiungere i comuni di Ribera, Canicattì e Palma di Montechiaro. In questi centri le restrizioni maggiori riguardano i non vaccinati che non possono uscire dal comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità o salute oppure accedere ai centri commerciali nei festivi e prefestivi. Ormai ovunque, infatti anche in zona bianca o gialla, è necessario il Super Green Pass per accedere a bar e ristoranti, anche all'aperto o nei centri sportivi, culturali e ricreativi per accedere ad alberghi o partecipare a feste. Il passaggio dalla zona gialla a quella arancione consente però ai sindaci la facoltà di chiudere le scuole di concerto con l'ASP competente. Nonostante siano ormai 149 i comuni in zona arancione, la Sicilia resta gialla, come dicevamo, fondamentalmente perché negli ultimi tre giorni è scesa sotto la soglia critica del 20% di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive. Una questione di 0,5% che ieri pomeriggio aveva generato il dubbio sulla permanenza in zona gialla. Si vedrà la prossima settimana cosa succede quando arriveranno i dati del monitoraggio sui tre parametri che vengono presi in considerazione per il cambio di colore, oltre all'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, anche quelli della degenza ordinaria e dell'incidenza dei casi sforati da tempo. E la curva del contagio continua a crescere in provincia di Agrigento, ma dal bollettino dell'ASP, seppur aggiornato al 13 gennaio, c'è un altro dato da attenzionare, quello dei decessi. Da lunedì 10 a giovedì 13 gennaio ci sono stati otto morti in provincia. Sentiamo. 8 decessi in provincia di Agrigento dal 10 al 13 gennaio. E' probabilmente questo il dato più rilevante che viene fuori dai bollettini dell'ASP, che pure non sono in grado di fotografare la situazione in tempo reale. L'ultimo, diramato ieri sera, fa riferimento al 13 gennaio e riporta 4 decessi, ma altri due erano segnalati nel bollettino di giorno 12, uno in quello dell'11 e un altro ancora in quello del 10 gennaio. E a questi è da aggiungere la morte ieri all'ospedale di Ribera, dove era ricoverato, di un saccense di 72 anni. Al di là dei numeri del contagio e di una curva ancora in crescita, quello dei decessi che si sono registrati in questi primi 15 giorni di gennaio è un dato che testimonia come la situazione epidemiologica sia ancora grave. Tornando all'ultimo aggiornamento fornito dall'azienda sanitaria provinciale, risultano essere 12.394 gli agrigentini contagiati. 55 di loro sono ricoverati in degenza ordinaria, 25 al San Giovanni di Dio e 30 al Fratelli Parlapiano e 9 in terapia intensiva, 2 ad Agrigento e 7 a Ribera. Questi i numeri del contagio invece nei comuni, aggiornati al 13 gennaio, è il caso di ribadirlo. A Sciacca il numero dei casi è salito a 887, 522 sono i positivi al Covid a Ribera, 109 a Sambuca di Sicilia, 184 a Santa Margherita a Belice, 167 a Santo Stefano Quesquina, 32 a Villa Franca Sicula, 89 ad Alessandria della Rocca, 87 a Bivona, 48 a Burgio, 65 a Calamonaci, 81 a Caltabellotta, 69 a Cattolica Eraclea, 130 a Cianciana, 65 a Lucca Sicula, 241 a Menfi e 16 a Montevago. Oltre i mille casi, quattro comuni della provincia, tutti zona arancione, si tratta di Agrigento dove i contagiati sono 1.509, di Canicattì con 1.299 casi, di Favara con 1.209 e di Palma di Montechiaro che conta 1.049 positivi. Non verrà più spostato al lab della Perriere il punto di somministrazione dei vaccini per i bambini. Lo ha detto il pediatra Vincenzo Montalbano durante la registrazione della nuova puntata di Vesper in onda da oggi e nel corso della quale abbiamo parlato di diffusione del contagio, di conseguenze psicologiche e pressione sugli ospedali. Ospiti in studio, anche la psicologa Evana Di Mino e il presidente del consorzio universitario Nene Mangiacavallo. Quest'ultimo ha annunciato l'attivazione di un corso di laurea ad Agrigento in scienze infermieristiche. Vediamo il servizio di Massimo D'Antoni. Rimane all'ospedale di Sciacca il punto di somministrazione dei vaccini ai bambini. Lo ha detto nel corso della nuova puntata di Vesper in onda da oggi sulla nostra emittente, il pediatra Vincenzo Montalbano. Nei giorni scorsi era stato annunciato il trasferimento di questo punto somministrazione all'interno del lab della Casa Albergo per Anziani, ma poi c'è stata una marcia indietro. Il dottore Montalbano ne chiarisce le ragioni. Ci conferma che rimane all'ospedale la zona? Sì, rimane all'ospedale perché in ospedale riusciamo a garantire il massimo della sicurezza. Anche se, devo dire, gli effetti collaterali, gli effetti avversi della vaccinazione sono stati molto limitati. Al 12 di gennaio, sono stati pubblicati i dati americani, sotto 1.700.000 dosi effettuate, si sono avute 5.000 segnalazioni avverse, di cui le segnalazioni gravi sono state una ventina, di cui 10 la famosa miocardite, che poi si è risolta benissimo, senza nessun bisogno di ricovero di terapie importanti. La vaccinazione viene effettuata tutte le mattine e tutta la settimana, sia per i prenotati che per i non prenotati, tanto che dal giorno 9 c'è l'open day, ma noi non abbiamo neanche prima osservato delle regole. Tutti quelli che si sono presentati li abbiamo vaccinati. Per cui speriamo di riuscire entro 20 giorni a fare le prime dosi. Adesso, lunedì, cominceremo con le seconde dosi. Io penso che entro il mese di febbraio riusciremo a vaccinare l'80% della popolazione di questo distretto. Nel corso della nuova puntata di Vespera abbiamo parlato della diffusione del Covid e anche delle conseguenze psicologiche. La psicologa scolastica Evana Di Mino ha evidenziato come i più piccoli fungono da esempio per le paure degli adulti. Credo sia sufficientemente noto che i bambini siano un po' la fascia della popolazione più sana, anche psicologicamente, mi permetto di dire. Senza sovrastrutture, diciamo così. Senza sovrastrutture. Sani sani, come diciamo. Sani sani, ma nel senso che comunque non hanno il pregiudizio, non hanno il preconcetto, non vengono, a meno che ovviamente non vivono in contesti altamente pregiudiziali o altamente, insomma, in qualche modo diffidenti rispetto alle cose della vita, alle cose del mondo, riescono a... funzionano in maniera molto più sana, appunto, no? Cioè nel senso riescono a utilizzare la logica che li porta verso scelte corrette. Sostanzialmente è questo quello che poi è molto bello dei bambini. Ti riportano e ci riportano a una visione del mondo molto più logica. Ospite in studio è anche il dottor Nenè Mangiacavallo, medico pneumologo, ma anche presidente del consorzio universitario della provincia di Grigento, il quale ha evidenziato che è inutile che si attivino altri posti letto negli ospedali se poi manca il personale necessario. È in tale direzione che ha annunciato l'attivazione di un corso di laurea in infermieristica proprio al CUPA. Per cui posso ormai annunciarlo ufficialmente. Tutti i passaggi sono stati consumati, anche il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo ha dato l'assenzo alla istituzione del corso di laurea in infermieristica per 45 studenti ad Agrigento. Questo evidentemente, al di là del significato che può assumere in prospettiva per fare fronte alle nuove esigenze di lavoro in funzione della pandemia, offre una nuova importante opportunità di lavoro, non solo nella nostra terra, ma laddove ci sarà bisogno, ai giovani della provincia di Agrigento. Questa è la politica che stiamo perseguendo all'interno del consorzio universitario, tendente ad offrire, non solo con i corsi di laurea, ma anche con dei corsi di formazione, con dei corsi di qualificazione, con dei master, nuove opportunità di lavoro ai giovani della provincia di Agrigento e non solo della provincia di Agrigento, che avranno la possibilità di frequentare corsi di laurea particolarmente qualificati a due passi da casa. Oggi e domani vaccinazioni anti-Covid-19 anche senza prenotazione per la fascia di età che va dai 5 ai 18 anni e per gli over 50 negli hub delle aspe siciliane. L'iniziativa Porte Aperte è stata voluta dall'assessorato regionale alla salute. Per il target 5-11 anni le somministrazioni avverranno solo in quegli hub che prevedono apposite corsie riservate alle vaccinazioni pediatriche. L'obiettivo è quello di incentivare ulteriormente l'immunizzazione nelle due particolari fasce d'età tenendo conto che da una parte della ripresa delle elezioni in Sicilia e dall'altra anche dell'obbligo della popolazione over 50. Continuano i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle normative anti-Covid. La Polizia Municipale di Sciacca con l'impiego di due agenti ha effettuato il controllo presso 12 esercizi del centro storico verificando oltre 90 certificazioni verdi. Riscontrate alcune violazioni per cui sono state levate due sanzioni e disposta la chiusura di un locale per tre giorni. Si tratta di controlli di ordine pubblico disposti dalla Questura. Siamo stati abbandonati da tutti. Non si trovano da giorni più tamponi per poter uscire dalle quarantene né con la sanità pubblica né con quella privata e non possiamo recarci in altri comuni perché violeremmo le disposizioni vigenti. Questa è la denuncia del sindaco di Alessandra della Rocca Giovanna Bubello che lancia un appello all'Asp Il nostro è il territorio con la percentuale più alta di disoccupazione nell'Agrigentino deve essere lusca a venire qua a fare i tamponi molecolari non possono essere costretti i nostri disoccupati a spendere soldi nelle farmacie private. Calogero Parla Piano Anche il comune di Alessandria della Rocca è stato dichiarato zona arancione Ai nostri microfoni il sindaco Giovanna Bubello non soltanto dichiara tutta la sua preoccupazione ma denuncia come la propria comunità sia stata sostanzialmente abbandonata tanto dalla sanità pubblica quanto da quella privata la ascoltiamo in questa intervista telefonica La situazione ad oggi è che abbiamo 91 casi che mi vengono notificati dall'Asp almeno ieri sera mi è stato dato questo dato comunque io ritengo che la situazione è sfuggita di mano alle Aspe e alle Usca le Usca si sono dileguate per cui nessuno più fa il tracciamento non si capisce quante persone in effetti sono realmente contagiati perché come ad Alessandria della Rocca così nel resto della provincia di Agrigento dal confronto dei sindaci emerge che la gente si fa i tamponi fai da te per cui chi fa il tampone al supermercato chi si rivolge alle farmacie non c'è più il coordinamento e il tracciamento e noi sindaci ormai non abbiamo più il posto della situazione io ho chiesto dati certi e ho chiesto anche i tamponi molecolari di guarigione e quindi per intercettare il virus è necessario avere questo tampone che è previsto dalla circolare del Ministero della Sanità anche per attestare la guarigione o i casi di positività però in effetti se si va al distretto di Bivona nessuno fa più i tamponi anzi abbiamo avuto iniziative di sindaci per cui ormai ognuno fa quello che ritiene opportuno per cercare di salvaguardare la salute dei propri cittadini però la verità è che la sanità dovrebbe garantire il servizio relativo ai tamponi e al controllo della situazione che non esistono più i tamponi e nessuna struttura pubblica nell'USCA nel distretto nel Dipartimento di Sanità hanno più i tamponi molecolari per cui nessuno va a controllare anche le persone che sono in isolamento la cosa più grave per quanto mi riguarda è che io ho gente che mi risulta in elenco come positivo già dal periodo anteriore alle feste natalizie quindi la gente è guarita e rimane ostaggio a casa perché ad Alessandria della Rocca se tu hai un provvedimento di rimanere a casa in isolamento non è che puoi violare la legge e te ne vai a Cianciana in una farmacia a farti il tampone o in una clinica privata perché questo significa violare anche le disposizioni per cui abbiamo le persone che vengono lasciate che telefonano al sindaco perché ormai la sanità non funziona è uno sfascio questo come giunta ho dovuto deliberare in giunta la convenzione con una farmacia che farà lo screening per il rientro a scuola in sicurezza degli alunni dell'istituto comprensivo Manzoni però parliamoci chiaro le scuole non saranno mai in sicurezza perché non abbiamo sistemi di areazione mancano i purificatori d'aria mancano le mascherine FFP2 le menze non sarà più possibile garantirle per cui come sindaco dovrò sospendere il servizio mensa e il servizio di trasporto alunni manca la cabina di regia mi auguro che la politica e che le istituzioni possano ritornare a dialogare in modo propositivo e costruttivo perché noi sindaci ci ritroviamo in situazioni veramente di chi ha il cerino in mano e deve assumere le decisioni più impopolari e poi la cosa più grave è che noi non abbiamo comunità ricche ricche che possono consentirsi il lusso di andare a pagare 100 200 euro di tamponi nelle farmacie private perché dobbiamo dirci la verità è una cosa gravissima che la sanità pubblica costringa i cittadini a pagare i tamponi 15 20 euro ormai è un affare veramente è un business ora ci sarà quello delle mascherine ed è una vergogna su questo versante di questa ipotesi di vaccinare il loco i bambini del mio paese io ancora non ho avuto risposte identificato grazie ai filmati di videosorveglianza un 39enne di Favara è stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina rapina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio l'arresto è stato già convalidato dal GIP del Tribunale di Agrigento Alessandro Quattrocchi che ha accolto la richiesta del PM Giulia Sboccia e ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere nell'arco di 24 ore fra venerdì 7 e sabato 8 gennaio il 39enne aveva infatti prima tentato un colpo poi sventato in una farmacia successivamente si era poi recato in un'ottica dove invece è riuscito a sottrarre 1000 euro dal registratore di cassa scovato grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza durante la perquisizione domiciliare effettuata dai carabinieri nei giorni seguenti l'uomo è stato trovato in possesso anche di 31 grammi di hashish parte del quale era suddiviso in 6 piccoli imbolucli e di un bilancino di precisione funzionante ritenuto strumentale al confezionamento delle dosi un videomessaggio travestito da fantasma per protestare contro lo Stato italiano per il quale il suo comune non esiste questa è l'iniziativa odierna del sindaco di Santa Margherita di Belice Franco Valenti il quale nel 54esimo anniversario del terremoto evidenzia in questo modo i ritardi nel completamento della ricostruzione vediamo in quest'Italia dove la politica è rappresentazione e la parola slogan ho deciso di essere un fantasma di essere il fantasma di un sindaco di una città che per lo Stato italiano non esiste per il governo il mio comune non esiste lo ha detto Franco Valenti sindaco di Santa Margherita di Belice che sul suo profilo Facebook ha pubblicato un videomessaggio travestito da fantasma coperto da un lenzullo bianco bardato dalla fascia tricolore nel 54esimo anniversario del sisma che la notte tra il 14 e il 15 gennaio del 68 devastò la valle del Belice Valenti ha detto che a Santa Margherita il tempo si è fermato al momento del terremoto oggi siamo al 54esimo anniversario del terremoto che portò morte in istruzione a Santa Margherita e nella valle del Belice oggi dopo 54 anni siamo qui per dire che quella ferita è una ferita ancora aperta io sono il sindaco di Santa Margherita una città di 6.000 abitanti distrutta dal terremoto una città che dopo 54 anni ha ancora 84 prime unità immobiliari da ricostruire e un intero quartiere senza opere di urbanizzazione primaria tutto ciò è scandaloso non è la prima volta che il sindaco Margherita si assume iniziative eclatanti due anni fa fece riunire il consiglio comunale in trasferta a Roma in piazza Montecitorio lo stato è in debito con le nostre comunità ed è giunto il momento di onorarlo e oggi con i fondi del PNRR non ha più scuse ho fatto tutto il possibile per riaccendere i riflettori sul belice nella speranza che questo fantasma possa arrivare al cuore e alle coscienze di chi ancora si attarda a dare risposte esaustive e definitive a questa laboriosa gente servono circa 300 milioni di euro per completare definitivamente le opere in tutti i comuni interessati tra interventi dei privati e opere pubbliche compresa la rimozione dell'amianto delle ultime baraccopoli rimaste è giunto il momento di dire basta il governo ci considera cittadini e non fantasmi ha concluso Valenti a questa gente che ha conosciuto per tanti anni la tendopoli e la baraccopoli che ha respirato e continua a respirare le polvere di amianto regalati dallo Stato un senzatetto del Belice per lo Stato vale un quinto di un senzatetto della Lombardia e dell'Emilia Romagna un terzo di quello del Friù questo dicono i dati alto alto che spreghi e a 54 anni dal sisma che devastò il Belice a Montevago riapre al culto la vecchia chiesa madre dove si è appena conclusa la prima fase dei lavori di catalogazione e restauro ieri sera l'inaugurazione non sono mancati momenti musicali e teatrali alcuni estratti nel servizio a 54 anni dal sisma del Belice riapre al culto la vecchia chiesa madre di Montevago dove si è appena conclusa la prima fase dei lavori di catalogazione e restauro ieri sera la nuova inaugurazione della cattedrale tra luci momenti di preghiera e performance teatrali nel giorno in cui ricorre proprio l'anniversario di quel terribile terremoto che nel 1968 devastò la valle del Belice l'iniziativa di ieri sera a Montevago si è svolta dopo la deposizione di una corona dall'oro davanti al monumento dedicato alle vittime del sisma e una fiaccolata durante la serata l'attore Nicola Puleo ha messo in scena il dramma del terremoto protagonisti della rappresentazione anche alcuni bambini questo è un racconto un libro di racconti tra cui la vedo dove descrive intanto così bene un trato in modo romantico il violoncellista Mauro Cottone ha invece proposto un brano composto per l'occasione e interpretato da sua moglie la cantante Eleonora Tabì Grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.